La vecchia Lecco Ballabio, ovvero i tornanti della vergogna. Una decina di anni fa i residenti di Maravedo e la Orca salutarono con entusiasmo l'apertura della nuova Lecco Ballabio. Una liberazione per decenni, chi viveva lungo la strada per la Vassassina, aveva fatto i conti con il passaggio di camion a ogni ora del giorno e della notte, con lunghe code a ogni frequentissimo intoppo e spesso con gravi incidenti. La nuova strada non solo avrebbe tolto il traffico, ma avrebbe dato anche il là alla riqualificazione di vecchi quartieri fra i più pittoreschi della nostra città. Il sogno però non si è avverato. Oggi la vecchia Lecco Ballabio è forse meno affollata di un tempo, ma è più pericolosa. I camion, persino i tir, continuano inerpicarsi per gli stretti tornanti. Difficile capirne la ragione. I bisonti della strada sono certo più a loro agio sulla nuova bretella, ma nessuno sa perché passano ancora oggi per la vecchia strada, incrociandosi pericolosamente con i pullman di linea. Auto e moto ora la percorrono a velocità ben superiore ai 50 km l'ora, indicati nel limite, con tutto ciò che ne consegue. A mandare su tutte le furie residenti sono però le condizioni della strada. Il manto è mal ridotto e ai margini l'erba cresce, che è una meraviglia. In alcuni punti la vegetazione sfiora i due metri di altezza. In un caso ha letteralmente invaso una fermata dell'autobus, oscurando persino il cartello. Con queste premesse è difficile sollecitare i proprietari dell'abitazione e evitare che le piante invadano la sede stradale, cosa che purtroppo succede. Ciliegina sulla torta, lo stabile comunale di Via Pomedo, un immobile abbandonato da anni. L'amministrazione ha cercato più volte di metterlo in vendita senza risultato. Nulla si sa nemmeno del suo futuro destino. La vecchia casa, con tanto di rovi e liane, continua a far bella mostra di sé in uno degli ultimi tornanti di Lecco, a degna conclusione di due chilometri a dir poco vergognosi.